Siamo in compagnia dell'assessore alla cultura, al turismo e allo spettacolo del comune di Padula, Tiziana Boveferrigno, e del presidente del circolo sociale Carlo Alberto 1886, Felice Tierno. Già agli inizi di luglio è stato presentato il ricco programma delle manifestazioni estive, a cura dell'assessorato al turismo, in collaborazione con le associazioni che operano sul territorio, che già nei mesi scorsi, ed è successo già ad aprile in occasione della settimana della cultura, hanno collaborato con l'assessorato ed hanno arricchito ed impreziosito il lavoro dell'assessore. Come ho già anticipato, il calendario è stato diffuso agli inizi di luglio, quindi siamo già alla fine del primo mese di programmazione, e domani alle ore 19 presso l'aula consigliare del comune di Padula in piazza Umberto I avrà luogo la presentazione del libro Memento Domine di Dora Liguori. Assessore, ci spiega un po' domani cosa succederà qui in piazza. Bene, innanzitutto ringrazio Onda News sempre per essere vicini alle nostre iniziative da tempo, e quindi un invito lo rivolgo a tutta la redazione, a tutto lo staff di Onda News, e a tutti coloro che vi seguono, proprio per partecipare a questo calendario di eventi che con tanto sacrificio abbiamo posto in essere appunto fino al 30 settembre 2012. Come dicevi tu prima, tutto questo è stato possibile grazie alla collaborazione, alla partecipazione delle associazioni che a vario titolo operano sul territorio comunale. Noi come amministrazione abbiamo proprio messo in atto questo albo comunale delle associazioni, e quindi tutte non sono affini di lucro, quindi tutte operano in modo da volontario sul territorio. E quindi abbiamo, come dicevo prima, con sacrificio anche con attività commerciali, con chi opera sul territorio a vario titolo, messo su questo calendario di iniziative, che sono mirate essenzialmente a che cosa? Non solo a creare eventi nella Certosa oppure presso la Certosa di San Lorenzo, che è appunto il nostro punto forte, ma sono la caratteristica di questo calendario e il fatto di aver dislocato lungo tutto il territorio comunale queste manifestazioni. E quindi partendo dalla Certosa, ma abbiamo tantissime iniziative nel centro storico di Padula, presso aree archeologiche, quindi Cosilinum, oppure lo stesso Battistero di San Giovanni in Fonte. Quindi tutte location, diciamo così, che meritano di essere apprezzate e conosciute anche in questa occasione. Ritornando all'evento di domani, bene, questa è una sorta di presentazione di questo romanzo della professoressa Dora Liguori, una attenta scrittrice storica, che ha sempre avuto come passione la storia napoletana del Settecento e dell'Ottocento e che ha scritto questo romanzo proprio ambientato nell'Italia meridionale, nello specifico nel nostro territorio, quindi la Lucania, e ancora di più cita anche la stessa Certosa di San Lorenzo. Da questo romanzo è stato poi tratta un atto unico, quindi una rappresentazione teatrale insieme alla compagnia Il Teatro del Sorriso di Roma e sinceramente ha avuto tantissimo successo proprio nella capitale e quindi ci è sembrato giusto e doveroso, credo, da parte nostra, portare anche questa iniziativa culturale proprio nel luogo in cui è stato ambientato. Quindi si tratta un po' di una visione dell'unità d'Italia vista dall'Italia meridionale, quindi dal sud, in modo molto anche romantico, simpatico, verrà data questa libera interpretazione a questo periodo appunto della nostra storia. E lo abbiamo fatto grazie per scelta proprio alle associazioni culturali che da tempo operano sul nostro comune, non a caso con il Circolo Carlo Alberto che ormai è famoso e appunto vanta anni e anni di iniziative poste in essere grazie al direttivo e a tutti i soci, con l'associazione Il Pensatoio e con l'associazione Nuova Civitas di cui appunto porto i loro saluti e mi scuso perché non sono presenti ma purtroppo per impegni di lavoro non è stato possibile avere anche un loro intervento in merito. Ma ci sarà poi insomma anche Felice Tierno in qualità di presidente del Circolo Carlo Alberto a dare un suo parere in merito a questa iniziativa. E dicevo sarà la presentazione di questo romanzo ma ecco considerando anche il periodo estivo ecco non vuole essere un convegno nella natura storica anche perché magari diventerebbe difficile da seguire in questo periodo di caldo eccessivo ma è un'anticipazione di quello che poi sarà lo spettacolo teatrale che si svolgerà proprio sabato 11 agosto presso la corte esterna della Certosa di San Lorenzo alle ore 21. Quindi ci saranno ospiti la stessa compagnia, il primo attore della compagnia teatrale è appunto il Teatro del Sorriso, ci sarà l'autrice e ci saranno appunto docenti universitari quindi storici che trarranno anche le loro conclusioni da un punto di vista di interpretazioni sull'argomento. Il calendario proseguirà in modo molto ricco anche nel mese di agosto e chiediamo all'assessore una breve carrellata degli eventi più importanti anche se poi diciamo man mano nel corso sia di agosto che di settembre ritorneremo in modo dettagliato su ognuno di esso. Ovviamente è una promessa quindi questo è registrato e lo terrò per me. Allora sì io vorrei puntare più che altro l'attenzione su alcuni eventi importanti ecco iniziamo per esempio tra il 3, il 4 e il 5 agosto notti di mezza estate, festa degli orti, musica, gastronomia e allegria presso la piazzetta Sant'Alfonso a Padula Scalo raduno di Citroen due cavalli a cura di Victor Pantaloni del Centro Storico il 9 agosto questa è un'altra serata simpatica organizzata grazie anche alla collaborazione di Centro Musica ubicato appunto in Padula Scalo e ci sarà una serata, un percorso musicale nelle piazzette del Centro Storico di Padula quindi il 9 agosto note di notte aspettando San Lorenzo anche perché per noi è comunque una data molto importante legata anche alla stessa Certosa quindi durante questo percorso ci saranno vari gruppi musicali che si esibiranno ecco durante la serata e la nottata. Poi un'altra data importante per il territorio è quella del 12 agosto. Bene il 12 agosto presso la Certosa di San Lorenzo siamo riusciti a far tappa a far fare tappa a Sanremo Giovani qui proprio qui a Padula considerando che le tappe di area Sanremo Giovani sono tutte in grosse città quindi parliamo di Roma, Torino, Cernobbio, Lecce, Taormina bene tra queste tappe esiste anche Padula perché sarà per noi fondamentale far partecipare i giovani di questo territorio e quindi del comprensorio ma anche dell'intera provincia alle selezioni di Sanremo Giovani e il vincitore di questa tappa potrà poi partecipare alla tappa finale che è appunto quella di Sanremo per cui invito tutti coloro che vorrebbero appunto magari partecipare a questo evento e quindi a questa selezione a collegarsi al sito Cartasi Area Sanremo Tour e seguire lì le indicazioni per poter partecipare alla selezione e in questa occasione la serata sarà condotta da Radio Italia e quindi dal conduttore Mauro Marino e sarà anche l'occasione per avere una parte dell'orchestra di Sanremo diretta dal maestro Francesco Finizio alcuni ospiti importanti, alcuni big della musica italiana A proposito di San Lorenzo ricordiamo anche la rievocazione storica alla frittata delle Mille Uova in onore di Carlo V che si terrà nella corte esterna della Certosa dalle ore 21 e la mattina del 10 agosto come di consueto da alcuni anni nella sala del capitolo della Certosa a mezzogiorno sarà celebrata l'ora media e come ogni anno sarà suonata la campana di San Lorenzo quindi un evento che succede una sola volta all'anno Ovviamente noi lo riprendiamo già dal 9 aspettando San Lorenzo e poi il proseguo conclusivo sarà appunto in Certosa Poi abbiamo giochi di quartiere a cura dell'oratorio San Giovanni Battista nel rione di San Giovanni abbiamo un'altra tappa importante legata alla cultura e legata al teatro il 16 agosto avremo Beppe Barra in Ci vediamo poco fa, sempre presso la Certosa di San Lorenzo e un'altra iniziativa posta in essere dal Museo del Cognome appunto il 17 e il 18 agosto quest'anno questo raduno internazionale, siamo alla seconda edizione, sarà appunto dedicata alla famiglia e al cognome dei Pinto Continuando ancora abbiamo un concerto quindi sempre il 18 sera di Pizzica e Taranta presso la piazza Umberto I del Centro Storico Il 19 agosto abbiamo la quinta edizione del torneo Semilampo di Scacchi dedicato al nostro concittadino purtroppo morto in un incidente stradale Bruno Marsico Vetere e poi abbiamo invece il 31 agosto una serata appunto sponsorizzata e promossa dalla provincia di Salerno Circo sotto le stelle, sarà una bella serata dedicata ai bambini quindi una serata di animazione di circo che si terrà proprio nella piazza Umberto I Settembre poi seguiranno i eventi presso il Battistero di San Giovanni in Fonte il concerto di pianoforte quindi i maggiori maestri di pianoforte di tutto il comprensore dell'intera provincia di Salerno si esibiranno lì per noi abbiamo serate musicali concoriandoli con gli amici del teatro presso la piazzetta di Sant'Alfonso adotto un albero a cura proprio dell'oratorio San Giovanni quindi avremo delle passeggiate naturalistiche presso il Monte Romito quindi cerchiamo di abbracciare un po' le varie emergenze architettoniche ma anche paesaggistiche del paese ma spero che potremmo ritornarci magari esplicitando maggiormente i singoli eventi insieme a voi quindi il calendario in conclusione possiamo dire che unisce la certosa al centro storico vuole portare al centro dell'attenzione antichi borghi come è successo nel caso del rione San Giovanni come succede nel caso del borgo Sant'Eligio per quanto riguarda la festa della patata rossa 17, 18 e 19 agosto quindi l'assessorato ha preso proprio come propria missione diciamo così questo veramente la rivitalizzazione delle zone un po' dimenticate del nostro centro storico è fatto bene ricordarmi anche quest'altro evento della festa della patata rossa che ormai è divenuta anche questo un appuntamento fisso e diciamo sì un po' l'amministrazione quindi con il mio assessorato ho cercato quantomeno di coordinare un po' tutte queste iniziative proprio finalizzate a questo obiettivo un unico obiettivo è la valorizzazione dell'intero territorio soprattutto aree o comunque zone del paese che sono poco conosciute tutte le informazioni sugli eventi è possibile averle grazie alla collaborazione dell'ufficio turistico comunale telefonando allo 0975 77 85 49 quindi anche per la prevendita dei biglietti per gli spettacoli che si terranno in Certosa sì sia per lo spettacolo dell'11 agosto sia per l'area Sanremo che ovviamente è gratuito insomma in quel caso e sia per lo spettacolo di Beppe Barra le prevendite saranno fatte presso l'ufficio turistico aperto dalle 9 del mattino fino alle 18.30 del pomeriggio e tutte le informazioni saranno chiaramente divulgate sul sito internet del comune www.comune.padula.sa.it